In questa fase dell'Unione Europea è molto importante capire che è necessario andare a votare. La campagna del Parlamento Europeo stavolta voto è una campagna che vuole incoraggiare i cittadini di tutta l'Unione a scegliere per le proprie istituzioni e a scegliere l'Europa che si vuole. Andare a votare dunque assume un significato importante in questa fase geopolitica perché tra gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e anche l'Unione Europea se risulta indebolita certamente non potrà giocare il suo ruolo a favore dei cittadini. Siamo il più grande mercato del mondo, abbiamo tante potenzialità, la capacità di innovare, dobbiamo sapere spingere per affrontare tutti insieme meglio le sfide del futuro.